ma dicevo che non lo volevi vedere i biganette con l'air 2s ho lasciato a malincuore il mio air e mi sono fatto un upgrade a lui ancora tutto in celofanato sulla confezione e come vedete a questo giro mi sono scelto mi sono preso la versione base e non la combo e vi spiegherò ovviamente in questo video anche il perché insomma siete curiosi di aprirlo e di vederlo allora partiamo e parliamolo insieme a come al solito che dirvi datemi un bel like qua sotto nel video e se non siete ancora iscritti che dire iscrivetevi al canale vi chiedo anche un'altra cosa non lo faccio quasi mai se decidete di prendervi il Mavic Air 2S e lo fate partendo dai link che trovate sotto in descrizione a voi non cambierà niente ma a me aiuterà un po' il canale a stare in piedi e portare sempre novità che vedete ovviamente via via qua dentro il DJI Air 2S è un drone adesso ottimale per la fotografia aerea in movimento ma non è come ho letto in qualche slogan DJI la soluzione definitiva eh sì perché ci sono cose che non possono far risultare la soluzione definitiva a questo drone certamente diciamo che è un bel prodotto questo senza ombra di dubbio ha fatto infatti un gran salto di qualità rispetto al suo fratello minore andandosi a migliorare soprattutto nel comparto fotografico è infatti dotato lui di un sensore CMOS da un pollice che ne consentirà una qualità di gran livello nelle foto e nei video che andrà a realizzare mi sembra il minimo vedere cosa si c'era dentro la scatola anche se già dal lunedì appena passato direttamente dal lunedì mattina ci sono già iniziati i vari video dei soliti sconosciuti youtuber sparsi per il mondo con 30-20 iscritti che lo hanno già di fatto spacchettato ma andiamo a vedere cosa c'è qua dentro andiamo ad aprire ovviamente velocemente la scatola e troviamo come è ovvio sia lui ovvero il drone la batteria già montata qua sopra che è una batteria ovviamente non essendo la combo troviamo il radiocomando che ormai conosciamo onestamente molto bene troviamo i manuali ovviamente del drone spostiamoci un po' qua e poi troviamo tutta una serie di cose che è il carica batterie è partito da un cavetto troviamo i vari cavi troviamo 3 sette di eliche per un totale di 6 eccolo qua guardate eccolo qui tutte le eliche troviamo poi tutti i cavetti per i vari smartphone e gli stick di ricambio per il nostro radiocomando bene ovvio manca rispetto alla combo due batterie un set di filtri e il caricatore multiplo e ovviamente anche la borsa da trasporto e a questo punto dire andiamo ad aprirgli le braccia così iniziamo a farlo un po' sgranchire è giusto per i neofiti vi faccio vedere come si montano le eliche ve lo faccio vedere subito immediatamente andiamo a togliere un po' di cose che ci danno magari noia seguiamo questi e proprio live vediamo appena spacchettato e aperto come si montano le eliche montare le eliche è davvero banale e dovete andare a guardare i colori che trovate sui motori ne abbiamo due con il colore arancio e due con il colore nero e questi colori ovviamente li andiamo a ritrovare nelle eliche questi riportano il colore arancio andranno montate sull'arancio queste riportano il colore nero e andranno montate ovviamente sui motori neri per montarli è davvero semplice vedete l'elica ha queste piccole sporgenze che vanno ad infilarsi esattamente eccolo qui qua dentro nel punto esatto c'è un punto solo andiamo ad infilarle premiamo e rotiamo l'elica eccola qua è infilata e lo facciamo per tutte un minuto nemmeno e sono montate e pronte andiamo a toglierci anche il copri gimbal perché dobbiamo anche vederci la nuova ottica e a questo punto che dire andiamo a parlare che lui è pronto aperto e tutto vanno staccati un po' da adesivi ma siamo pronti per andare a capire esattamente cosa cambia cosa c'è di meglio e ve lo racconto subito e immediatamente il drone pesa meno di 600 grammi 595 per l'esattezza e come appena detto è dotato di un sensore di immagine cimmosse da un pollice da 20 megapixel in grado di registrare video in 5,4k 30 fps e ovviamente 4k 60 fps 2,7k eccetera full hd peccato che l'apertura sia fissa e non variabile ma ovvio ormai quelli di l'GI ci hanno abituato a darci degli oggetti con upgrade a piccole gocce e che dire questa cosa non è bella cattura immagini con il profilo colore D-Log M a 10 bit immortalando fino ad un miliardo di colori le foto ovviamente possono essere scattate anche in formato RAW con una gamma dinamica fino a 12,6 stop e acquisiscono più informazioni anche in condizioni di illuminazione scarse o complesse è ovvio che tutto ciò poi favorisce una maggiore flessibilità nella post produzione è presente in questo drone ovviamente anche la tecnologia intelligente HDR mi sembra il minimo che come sapete per chi non lo sa ve lo dico unisce in modo automatico più scatti aumentando la gamma dinamica delle immagini stesse senza farlo poi obbligatoriamente in un secondo momento in post produzione e magari anche più complesso e ci dobbiamo rimettere le mani e dunque grazie a questo ha dettagli più sfumati sia nelle luci che nelle ombre per immagini più ricche e con una maggiore profondità ovviamente si guida usando l'app DJ Fly e ha le funzioni che conosciamo già l'hyperlapse scatti panoramici eccetera la radio il radiocomando è sempre lo stesso lo conosciamo già non c'è niente di nuovo è sempre lo stesso di Air 2 e anche del Mini 2 parliamo di prezzi che non sono bassissimi 999 euro per questa versione base mentre se vi volete prendere la versione combo sono 1309 euro ed è per questo che io per fare test o altro ho preferito lei alla combo non ci arrivavo non ci arrivavo proprio ma vediamolo un attimo volare che dite mi sembra il minimo e poi rientriamo qua dentro guardiamo qualche cosina all'esterno perché ovviamente abbiamo già volato eccoci all'aperto eccolo qua il mio Air 2S pronto al decollo e pronto a partire che dire lo sto guidando con l'app DJI Fly 1.4 e il mio dispositivo Android che è davvero fantastico ha una luminosità incredibile ve lo ricordo il Redmi Note Pro 10 e che dire lo facciamo andare? direi di sì guardiamo un pizzico di immagini che ci regala e poi rientriamo all'interno di immagini 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 che direi che direi è la stessa ovviamente di air2 bella piacevole e divertente ho girato anche un po di clip di foto video che vedremo nei prossimi giorni nel canale analizzerò tutta una serie di cose interessanti dunque rimanete connessi perché vedete dei video interessanti su di lui tornando a concentrarsi su air2s è dotato di funzioni intelligenti come il master shots che è una funzione smart molto avanzata che offre agli utenti degli scatti di livello con un semplice tocco basta infatti andare a selezionare un soggetto che vogliamo riprendere e lui cosa fa filmerà in modo automatico mentre esegue 10 manovre in sequenza mantenendo però il soggetto abbiamo scelto proprio al centro dell'immagine e successivamente andando a generare un video cinematografico davvero di effetto incredibile una funzione molto molto interessante da provare assolutamente e la vedremo poi con air2s dgi ha migliorato le funzioni focus track ovvero lo spotlight 2.0 il nuovo active track 4.0 ma anche il nuovo point of interest 3.0 grazie a quali diventa ancora più semplice soprattutto funzionale per dgi air2s il seguire oppure tracciare un soggetto che vogliamo focalizzare all'interno di una scena il drone ha un'autonomia di volo di 31 minuti e la velocità massima che raggiunge è di 19 metri al secondo dgi air2s ovvero lui ha dei sensori di ostacoli sul fronte sopra dietro e sotto ed ha la capacità di percepire l'ambiente in quattro direzioni grazie agli algoritmi apas 4.0 ovvero advanced assisted flight system che sono stati ulteriormente migliorati rispetto all'air2 che presentava un ottimo apas 3.0 e questo avanzamento della tecnologia consentono a lui air2s di evitare attivamente di stare nelle scenari ancora più complesse di quelli che riusciva a fare il suo fratello minore nella scheda tecnica allegata si parla anche del sistema airsense integrato che fornisce un ulteriore livello di sicurezza dello spazio aereo e ci avvisa tramite l'app di gifly permettendoci di avere il tempo necessario per evitare eventuali rischi di collisione con altri veivoli ma da quello che avevo letto e che quando andiamo a fare l'attivazione chiede comunque di accettare il servizio e dunque ovvio sembra che possa funzionare certamente non mancherò di verificarlo e ve lo racconterò qua nel canale air2s è dotato della tecnologia di trasmissione delle immagini o3 che sta a significare ocu sync 3 che è la più avanzata di dji e grazie a questo il drone è compatibile ovviamente con il visore dji fpv googles v2 ma anche con il motion controller dji ma anche con lo smart controller è ovvio che nel canale lo vedremo bene come poterlo far volare usando il visore usando il motion controller e dunque che dirvi è anche e ovviamente lo smart controller rimanete sintonizzati perché ci saranno cose interessanti da vedere prossimamente peccato per la marcatura di classe come ampiamente previsto non c'è non credo sia semplice sbrigare questa cosa dunque ovviamente ci lamentavamo quando è uscita air2 oggi a distanza di mesi non possiamo che rimarere doppiamente delusi perché un drone senza la marcatura ovviamente fa sì che molti rimangano incerti e non lo acquistino perché ovviamente nel 2023 diventa un drone che va in A3 io mi sono preso la versione base perché ritengo a mio avviso il prezzo della combo un po' troppo elevato anche se riconosco che avere altre due batterie e la borsa non è un dettaglio trascurabile purtroppo non potevo fare diversamente io i droni vi assicuro che mi riacquisto me ne compro mi sono venduto il mio air2 magari successivamente mi riprenderò una batteria aggiuntiva non lo so ma credo di sì che vi ricordo tra l'altro sono compatibili con quelle dell'air2 del suo predecessore e che dire per oggi è tutto vi saluto ma state connessi perché vedrete nei prossimi giorni ovviamente test e provi e quant'altro di questo nuovo drone dgi che poi alla fine migliora tantissime cose nel comparto fotografico migliora cose nella tecnologia e nella sicurezza in volo nella possibilità di guidarlo in modi diversi ma alla fine a livello visivo cambia decisamente poco perché sono comparsi questi questi piccoli fori qua che sono di fatto i sensori che non erano presenti nel drone precedente abbiamo un'ottica vedete un po' diversa abbiamo dei baffi arancioni sulle eliche e poco più vi ricordo che il drone comunque monta come faceva l'air2 una scheda può montare una scheda sd ovviamente che non è inclusa e ha a bordo 8 gigabyte di memoria che sono sempre assolutamente utili perché può succedere che quando voliamo ci dimentichiamo di portarsi dietro la piccola micro sd e allora ci salva spesso non vi dico cosa perché sennò si entra nel francese ma avete capito ciao alla prossima da big nette ciao a tutti